Ciao raga, allora io qua sto un po' so per adottimi Allora mi era venuta un'idea, visto che tutti quanti ti vivono una mascotte Ed ero l'unica ispirata da Ropie Ed ero l'unica a non avere una mascotte Mi sono trovata un pazzo di un coniglio, proprio fianco Io ho detto, perché non farci da coniglio? E quindi, ecco qua, solo che una maglia me la vorrei cambiare Avevo trovato questa Che però quando userò la mascotte di Pepe Oda me la metterò Perché ora no, voglio i conigli Allora, ho provato a cercare, ma niente Ha bene che metterò questa Che è bellissima Oppure metterò la pittade Perché è una scelta molto importante Ha perché la tastiera che cambia pure colore Aspettate, ma mi faccio vedere a te Allora, perché non posso perpettire perché tengo solo due mani E con una sto registrando l'osso Che si mette al fuoco Ah, ecce Oh, si è bloccata la tastiera Vabbè, aspettate Rosso, giallo, viola che è il mio preferito Verde di nuovo Azzurro, blu, bianco E vabbè, ora si rifanno Io ora metto il bianco Perché appunto stiamo facendo La mascotte dei conigli E quindi si deve alzare pure No, non mi risulta Ok Allora 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 Io credo che metterò questa Però non le sono tanto sicura Perché Aspettate Fatemi vedere a che ore sono A parte che sono le 21 e 15 Ma sono dettagli A parte che ho pure questo Che mi ha regalato Mio Dio Che saluto A parte questo Perché dico sempre a parte Non lo so E l'ho appena finito di dire Vabbè Avevo trovato pure questa maglia Posta per i coniglietti Però devo dire la verità Che non è che mi piace Che tanto Quindi Credo che metterò Semplicemente Questa maglia qua Anzi no Non proprio questa Non proprio così semplice Allora Io prima avevo visto Una cosa qua Ecco forse questa Non era questa Allora Riga Andiamo a trovare la maglia Prima Che forse è meglio Mi ritrovo sempre Questo buio di Oda Che mi dà sempre più la forza Di Dami quello Cioè A parte che mi danno Per 20 euro Un secondo A parte che sono buoni Per carità Però Cioè Stanno la Perché dico sempre a parte Vabbè Sta la stessa Maglia Allora Forse sono andata Un poco troppo Di E quello là Aspettate Io tenevo questo qua Bala Ah tenevo questa maglia qua Devo dire che Non mi dispiace Questa maglia qua È solo per farvi vedere Ah beh raga Questa sono io Allora Visto che io Ancora Come dire Ancora non ho Punto il bagno Sperando che qualcuno Me lo dà Dice Please Boney Credo che si dice così Perché ho messo Questo Boney Vai Please Boney Allora raga Io sto Ultimamente Però voglio il coniglietto Proprio Voglio il coniglietto Se non mi metto Piangere Aia mi fa male Proprio L'occhio Please Bunny Vabbè Scrive un po' Quaccadissimo Please Bunny Vabbè Questo qua Non mi dispiacerebbe Quindi ci porvo fuori Il conferso Ma a parte che Dopo i miei genitori Mi compreranno Vabbè Questa non me l'accetta Già lo so E tac Chiara Questa qua E saluto Ciao A parte che Prima ho incontrato Due miei fan Che mi ho saluto Ovvero A parte che mi stanno Andando l'unicorno Che io Odioso E poi Perché dico sempre A parte che Ma l'ho finito di ritirare Ma vabbè Cosa mi chiara Ma ti voglio vedere Allora Allora Ce l'ho trovato Questa Poi un'altra Che io ci avevo mandato Poi la mia Allora Carito Carito Emily Ciao Fatino basso Emily E poi Gatta Stella 33 Anna PC 26 E Buonetti Buonadatto Anche se Allinei Vabbè Non so se ho pronunciato Vabbè Comunque Loser Questo Eccolo qua Che prima Non si pensava Che era mia Perché Ha detto Che ero la sua Isola E io Mi sono davvero Emozionata Perché io Vi adoro A parte che Non devo dire Più a parte Non devo dire Più a parte Allora Rega Faccio costare Di E' Allora Io adoro I conigli Fin da piccola Adoravo Però Mo che Adoro ancora Visto che A cane Non c'è niente E manco A cavallo Ovvero I miei due Anni preferiti Mi Ho deciso Di farlo A coniglio Però Io voglio Mo Ruttato Ma vabbè Voglio Mo Il Coniglietto Please Bunny Ti prego Voglio Guardate 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 Right Please Bunny Normal Please Bunny Bunny No Roman No 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 Perché L'ho scritto Così Please E no Man Ma Che Cazzo Allora Questa Qua Era quella La Di Prima Che Mi Avevo Fatto Il Train Uh Noemi Noemina What Is It Ma Questa Qua La Conosco Ah Ma Tampin Del Co Noemina 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 Please Bunny Uh Questa qua Me la vuole dare Per favore Oh Grazie Ti prego Ti prego Accetta Ti prego Normal Normal Oh My God Tan Ox Oh My God Thanks Oh Mio Dio Ti prego Accetta C'era Malatte Please Bunny No Noo Noo Normal A parte Sto Un pelo De Mio Canne Ma Vabbè Please Bunny Normal Ragazzi Mi Lo Da Da Rompet Bunny Normal 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 Ti prego Almino Tu Ti prego Bunny Rom Ma No Rom Mallo Mallo Tornato Accetta Perché Sennò T'ammazza La mamma A parte Voglio Sto Cacchio Di Bunny Di Coniglietto Please Coniglietto E Tornor Male Perché Perché Pizz Bunny Normal Ti prego Pizz bella questa leggera ma carino il normal io mi metto a piangere guarda i bunni guardate sono tutta vestita a bunni e nessuno che mi nota e l'ho andata pure quella la con i bunni mi metto a piangere vabbè a parte se mi esce veramente il bunni da dentro nuovo che mi andrò a comprare dopo perché io l'adoro il bunni e lo so scambiare mai si eviti, lo farò pure io con questo pet perché io ce l'ho in ride proviamo what is it? vabbè ci provo a fare questo si, non ho sciopi di biless abbonne trucco what is it? vabbè ci provo a fare no, 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 no ma perché la gente è così fortunata? aia dai, voglio il bunni please unni, normal please buonni no, no raga ve lo chiedo per favore ora me lo sto badando e poi mi hanno declinato alla fine la vita è brutta uffa, 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 uffa non vale così allora ti prego dammi il bunni allora io mi siedo allora io mi siedo così perché voglio il bunni quindi aspettiamo quindi dammi il bunni visto che sto sgocciando pure io io mi fanno male per il collo mi prendo un attimo un pacchino e poi si migliano vabbè devo prendere un attimo un coso per il collo perché mi fa male il collo ecco 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 qua che nessuno mi ha fatto il trick aspettate perché ancora l'ho messa oh raga una 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 per favore per favore ti chiedo per favore please bunni normal please bunni normal vabbè questa qua non l'accetta tanto tanto sono sicura tanto sono sicura di bravo i bunni non me ne fregano queste cacate cioè per carità sono belle però forse i bunni cioè come dire vabbè a parte che scusa perché cacchio mi sono messa questo oh posso comprarmi no Roby dai Sophie che saluto che prima che ha detto di salutarla quindi ciao e ciao pure a quella che non mi ricorda come si chiama no declino declino alla stella io la giuro solo che il pazzo vale di più perché 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 ah beh se mi regalano il bunni sarà il mio preferito cioè sarebbe il mio dream pet dai non scherzo ecco a parte che io ho questo qua dato un my dream pet perché è veramente il mio dream pet perché è veramente il mio dream pet però anche l'unicorno se no dobbiamo essere sinceri eeeh eeeh dobbiamo essere sinceri ok a parte mio dio sto staccando avremmo facciamo pure mangiare ok aspettate che devo scrivere una cosa provata eeeh chiara eeeh vabbè chiara e francia ho scritto sulla polizia sapere non lo voglio sto fanno già glielo ma perché rifiuti sempre cioè sembra una stromba boh cioè tu prima non li fai dimmo no a te e che cacchia cacchia vuoi please bunny normal eeeh perchè 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 si mette la tastiera bunny normal a breve sul tempo tengo i soldi per comprarmi un uomo che io spero che non uscirà i banni cioè lo spero a parte datemi di dire che ori sono sono 206 ok visto che questa tizia mi ha rotto andiamo qua allora andiamo di qua compriamoci il petto e il petto questo vabbè sono poco ecco così oggi acquista tiene già sotto mettiamo la batteria scarica ahhh 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 animalo mi teras caricano un ceron dorado ahhh che ha dot però come va Ε lui mi solo che ancora non l'avevo trovato nel frattempo a sonno quindi le porto un attimo a dormire e perché sta ancora all'uno io sono a 30 secondi si sta già facendo come Emili perché non ho ancora trovato cosa ancora non l'ho trovato ecco mi guarda l'ho messo già a dormire comunque già si è caricato del 5% a 7 me lo porto la magari spero letteralmente il bunny cioè del spero letteralmente che mi esca esca scusatemi il bunny ascoltate come ve lo faccio vedere ascoltate come bello io l'adoro vi prego fatemelo uscire oppure pure quello a fianco mi dispiacerebbe ma pure quello a bene abbiamo detto il bunny in frattempo non so che cosa si è attivato ma vabbè a parte che mi stanno inviando un sacco di messaggi tra dei makikaki beh ragazzi stiamo a metà siamo già alla seconda missione quindi sono tipo 4 quindi 1 e 2 velocemente io vorrei io vorrei oh no oggi non vuoi alleluia questo qua io lo vorrei prendere ora oh no non lo posso prendere nooo no oh quattastella 3 sono mia amica e raga vi plurro che non posso più accettare hai richiesti di amicizia prima perché sono più di 40.000 e poi dite ma solo tu tieni solo 770 amici che poi è vero e poi altri 40.000 che ci fai a parte il coso che ha portato il mio fratello eppure quello a parte che ne ho uno fly tanto me lo declina piccolissima tanto me lo declina ora mi sono svegliata a parte che qua sta appunto il mio no raga tutti e due con il 4 devo fare la screenshot 1,2,3,4 ti prego il bunny no quella la teneva proprio bunny ma che per farmela apposta qui ti prego ti do tutta la mia vita per il bunny voglio i bunny vaga tutti con me voglio i bunny 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 la bollo umana ce l'ho anche io ti prego se non ti riuscite di mettere questo che ti do pure questo mi prego però da mie i bunny allora raga visto che non c'è ancora schiuso io oh mio dio sono con il cisa accetto e poi vedete un poco schiuso io troppo le panni allora c'è aspetta perché ti avevo levato quello che sbaglio ecco io ce l'ho pure io e te lo metto e ti metto pure questo ogni raga mi fa male un sacco di cosa però però deciditi a parte che manca sono un sacchetto quindi non so non saprei come le tue oh mio dio allora accettato a parte che mi stanno dando un sacco di euro mi stanno dando questo devo dire la verità a parte che mi stanno pagando un sacco di euro che non sono stessa importante vabbè i bagni è tutto quello là che ho è tutto quello là che ho la mamma è scorta se non avrò un bagno non sarà mio no raga devo andare subito dal petware e prima di tutto ringrazio fortemente la ragazza perché veramente e lo scopo mascotte un mascotte un mascotte un mascotte me lo da ok adesso andiamo dal petware veicoli ma perché fin da allora andiamo qua raga io sono super happy cioè per un uomo inclinato per ora dovevo seguire volevo vedere che cosa perché se riusciva tipo un cosiddetto raro che mi portavo giù dalla fine tipo lo scivamo ma che io sto aspettando di farmelo appunto neon a parte mi potrò fare pure già il led band allora raga allora quale mi io per quello hanno visto che non lo voglio rovinare e gioio prima lo volevo lo so allora vediamo io quale ho io questi tre quindi aspettate credo di prendermi questo sì ok gli animali domestici vestire ok il nuovo il nuovo devo dire la verità che sia davvero super c'è amo è duro ok e quello qua è stato ora ragazzi non so per happy nel frattempo ho fatto meno 4 minuti di video e quindi ci sentiamo a domani e spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non prendermi nessun video e mi raccomando seguitemi, mettetevi like e attivate la campanellina spero che questo video vi sia piaciuto metterò anche dei foto profilo con io ovviamente quindi ciao